Gianni Belgrano, la stagione dei grandi eventi della prima zona FIV sembra non conoscere le conclusioni. C'è stata una primavera ricchissima in testa ai campionati italiani classe olimpica, manca la novità della Coppa dei Campioni. Settembre invece è occasione per vivere un altro importante campionato italiano. Sì, abbiamo a Loano il campionato italiano in doppio per giovanile che è un grande evento che segue quello appena finito a Via Reggio dei campionati in singolo e qui avremo tutte le barche in doppio, quindi avremo i Feva, avremo i 420, avremo i Catamarani, quindi anche questa è un'altra importante novità che portiamo nella nostra regione. Una regione in cui i grandi eventi marciano di pari passo con la promozione, tante attività c'è stato, lo ricordiamo, il Veladei che a giugno ha riscutto un grandissimo successo. Sì, il Veladei quest'anno, al secondo anno, ha coinvolto direi la quasi totalità dei nostri circoli e contiamo di incrementare ancora questo tipo di promozione proprio per aumentare chi si avvicina alla vela. Adesso avremo il salone nautico dove con un'attività intensa con le scuole verranno gli alunni in visita e daremo a tutti la possibilità di provare la vela direttamente sulle imbarcazioni, sia sulle piccole imbarcazioni, quindi Optimist, sulle barche collettive con i 555 e con anche quest'anno una novità, diciamo, l'altura, quindi barche a bulbo che porteranno in giro i ragazzi. L'altura, anche perché il salone nautico è tradizionalmente occasione di lancio per i campionati invernali con la presentazione a cura della prima zona. Sì, la calendarizzazione prevede proprio la partenza nelle date del salone nautico e andremo avanti ottobre, novembre, dicembre, gennaio e febbraio con tutti i vari campionati, sia quelli del centro, del levante, ponente, estremo ponente, che poi sfoceranno in una classifica dei vari campionati che porterà alla finale della Coppa dei Campioni nel mese di marzo. Facciamo un piccolo passo indietro. Recentissima è stata la partecipazione alla Coppa Primavela e a eventi che legano tanto i giovani. Sì, abbiamo mandato in rappresentanza della prima zona 37 atleti a Via Reggio, quindi questo è stato un bel record, vuol dire che abbiamo sempre grossa partecipazione nelle selezioni zonali. L'anno prossimo, lo anticipo già, avremo anche la selezione per gli ottimisti dell'interzonale che prevede l'incontro fra tre zone, prima, quattordicesima e quindicesima, e quindi anche questo sarà un altro grande evento che avremo nella nostra prima zona.